Contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti-covid con particolare attenzione dedicata al settore giovanile coinvolgendo gli operatori del settore ballo e spettacolo. È la richiesta che il commissario straordinario all'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo ha rivolto ad alcune regioni tra cui la Puglia al fine di allestire dei veri e propri open day vaccinali all'interno delle discoteche, ipotesi questa ventilata nei giorni scorsi anche da Maurizio Pasca, presidente del SIRB FIPE, associazione di intrattenimento, ballo e spettacolo. Il nuovo fronte aperto da Figliuolo si unisce a quelli dei giorni precedenti e riguardanti la possibile vaccinazione dei turisti che arriveranno in Puglia nel corso della stagione estiva è quella di tutta la popolazione scolastica finalizzata a ritorno in aula nel mese di settembre. Attiva intanto sul sito www.lapugliativaccinaregionepuglia.it l'adesione per le aziende per avviare i piani di vaccinazione anti-covid nei luoghi di lavoro. Le aziende pugliesi che vorranno aderire alla campagna vaccinale anti-covid nei luoghi di lavoro potranno compilando un modulo con la dichiarazione del medico competente e inviandolo per la valutazione alla ASL di riferimento avviare il piano aziendale per la vaccinazione. Il piano infatti deve indicare le modalità di organizzazione della somministrazione con le prescrizioni su segnalazione del punto vaccinale, gli spazi dedicati e idonei con aree per l'accesso scaglionato e per l'osservazione post-vaccino. Nel piano ci sarà il riferimento alle risorse strumentali di personale addetto conformi alla normativa. Le aziende invieranno agli spesal competenti delle ASL il piano delle vaccinazioni agli indirizzi mail presenti sul sito www.sanità puglia vaccinazione nei luoghi di lavoro. Gli spesal contatteranno le aziende per le valutazioni del caso. Le dosi di vaccino anti-covid somministrate in Puglia sono ad oggi quasi 2 milioni e mezzo, un numero pari al 93% di quelle ricevute. Cresce dunque la copertura vaccinale che in alcune zone come il barese ha raggiunto con almeno una dose più di 4 cittadini su 10, sia nelle fasce di età più elevate, toccando il 91% tra gli over 80, il 90 tra gli over 70 e l'84 per i 60-69 anni, sia tra quelle più giovani. Il 50% dei 50-59 anni ha già avuto la prima dose di vaccino, così come il 27% tra i quarantenni. In provincia di Foggia invece le somministrazioni si attestano intorno a quota 350 mila, oltre 110 mila sono le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale. Nella ASL BT infine le vaccinazioni sono oltre 170 mila. In programma tranne il 30 maggio la vaccinazione dei malati rari che non sono stati vaccinati nella prima giornata dedicata, mentre il 31 riceveranno la seconda dose tutti i caregiver della provincia a cui è stato somministrato AstraZeneca il 4 e 5 aprile.